L'abbiamo ragionevolmente affrontata in ognuna, magari citata leggermente, in ognuna delle fasi del funnel e finalmente ci arriviamo in quella che è definibile come una subfase, cioè la fase di in-market. Usciti dalla fase conoscitiva, dalla fase alta, cioè awareness e interest, entrati in quello che è il momento di confronto, di rapporto con gli altri, di analisi delle recensioni, dei commenti nel quale, ripeto, la fase social diventa importantissima. Diventa importantissimo avere un blog, diventa importantissimo rispondere alla necessità del cliente, del prospect, più che alla rappresentazione fisica di un prodotto rispetto alla domanda che viene fatta dal prospect. Questo che cosa vuol dire? Che se io chiedo, se io dico ho delle rughe, le devo mandar via, e ti dico prendi sto prodotto, fondamentalmente potrebbe essere la risposta che danno tutte le aziende che producono un prodotto anti-rughe. Invece se provo a spiegare perché ho le rughe, che cosa devo fare per combattere le rughe e via dicendo, è evidente che il rapporto fiduciario che si instaura tra noi e il cliente, e il prospect ancora, diventa probabilmente più solido. Perché questa carrellata di in-market? Perché la fase di in-market è una fase estremamente importante dal punto di vista decisionale. usciti dalla fase di intent, nella quale abbiamo definito le caratteristiche del nostro prodotto. Acquisto scarpe gialle da corsa. Non più le scarpe gialle, non più acquisto di scarpe, ma siamo fondamentalmente sicuri che vogliamo un paio di scarpe gialle. Oppure prenotazione a luglio per hotel a Livorno. definiti questi aspetti, finalmente inseriamo in carrello. La fase di in-market è una fase nella quale abbiamo inserito in carrello, ma non l'abbiamo ancora acquistato. Ed è una fase che per Google è molto importante, perché in realtà rappresenta effettivamente quasi l'ultimo step di convincimento, non tanto sul prodotto che si può acquistare, ma sul dove acquistarlo. si esce da una fase nella quale abbiamo palesato qual è l'oggetto che vogliamo acquistare, entriamo in una fase che è quella di brand barra purchase, e tra poco capiremo perché, e di fatto è una fase di in-market abbiamo fisicamente inserito in carrello. Se ce lo volessimo immaginare come un supermercato, siamo andati al supermercato con un'idea precisa, quella di comprare qualcosa da mangiare per cena, ci siamo fermati, diciamo abbiamo basculato tra il banco del pesce e il banco della carne, ci siamo messi davanti al banco del pesce, abbiamo deciso che cosa, che avremmo mangiato pesce, e abbiamo scelto tra scampi e gamberi. Messi gli scampi in carrello, adesso stiamo per andare alla cassa, quindi questa è la fase di in-market, fisicamente nel momento nel quale presi gli scampi, li mettiamo fisicamente nel carrello. Questo tipo di azione può essere ancora interrotto, o perlomeno può addirittura ancora essere interrotto nel percorso che va dal banco del pesce, o il carrello con dentro lo scampo, alla cassa, e quella evidentemente sarà la fase poi di purchase. Io ve l'ho leggermente semplificato per inserirvi la sub-fase, forse ve l'ho complicato, dipende dai punti di vista, però diciamo che nella fase di purchase avremo un percorso così strutturato che ci consenterà di capire esattamente nel quale fondamentalmente tutti i pezzi andranno, tutti i pezzi del puzzle andranno al loro posto.